TELENOVA GIORNALE Un fortissimo boato alle tre della notte fra martedì e mercoledì ha svegliato la cittadina di Giarratana, un uomo di 42 anni residente nel centro montano, è rimasto gravemente ferito, riportando ustioni su buona parte del corpo a causa dell'esplosione della sua abitazione situata in via Bovio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale che stanno indagando sull'episodio sulla quale è stata anche informata la procura della Repubblica di Ragusa. L'uomo ha tentato il suicidio aprendo il gas che ha praticamente riempito tutta la camera da letto, da qui l'esplosione che ha praticamente distrutto la casa. I pompieri hanno subito dichiarato inagibile e inaccessibile l'appartamento. Il ferito stanotte è stato trasportato d'urgenza dagli operatori del 118 all'ospedale civile di Ragusa, in attesa dell'imminente trasferimento nel reparto specializzato per la cura dei grandi ustinati all'ospedale di Catanio, dato che il soggetto si trova in gravissime condizioni. Si è riunita a martedì la conferenza dei capi gruppo al Consiglio Comunale di Ragusa su convocazione urgente del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Iacono per discutere di un'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi offshore della Transunion Petroleum Italia SRL in un tratto di mare ricadente in territorio ragusano. Dai consiglieri è stato dato un secco no alle ricerche di idrocarburi. Proprio ieri scadevano i termini per la presentazione delle osservazioni per la valutazione di impatto ambientale. L'amministrazione comunale aveva già presentato le proprie osservazioni, contrarie agli interventi richiesti dalla multinazionale. Ma non essendoci tempi tecnici per una riunione del Consiglio Comunale, il Presidente Iacono ha convocato d'urgenza i capi gruppo, i quali hanno stilato un documento comune da inviare al Ministero dell'Ambiente. Il no unanimo e da parte dei capi gruppi consulari deriva anche dal fatto che si fa presente che lo sviluppo turistico, culturale e ambientale dell'intero territorio è indirizzato a uno sviluppo ecosostenibile, tese a valorizzare i beni patrimonio dell'umanità, culturali e ambientali, escludendo qualsiasi forma di alterazione e inquinamento del patrimonio stesso. Ha un nome, il giovane travolto e ucciso da un furgone quattro giorni fa a Catania. Il tatuaggio sul collo ha permesso di poterlo riconoscere. Si tratta di Emanuele Cutrone, 32 anni originario di Acatema, residente a Vittoria, anche se da qualche anno abitava presso una comunità di Pedelino. Il giovane è stato travolto e ucciso intorno alle 6.30 dello scorso venerdì da un furgone, mentre stava attraversando l'asse dei servizi, il tratto di strada che conduce al centro commerciale alle porte di Catania. Il pedone è morto sul colpo. Difficile poter capire chi fosse, visto che era sprovvisto di documenti. Per tutti questi giorni era rimasto all'obitorio dell'ospedale Garibaldi, in attesa che qualcuno lo potesse cercare. La presenza del tatuaggio sul collo della vittima, raffigurante uno scorpione, è stato l'elemento che ha permesso ad alcune persone di riconoscerlo. Anche il territorio ebleo si mobilita per la pace in Siria, da parte del Comitato Numus e del Presidio Permanente di Contrata Ulmo, a cui aderisce anche il Comitato Numus della provincia di Ragusa, una nota. Siamo duramente impegnati nella lotta contro le 46 antenne NRTF e l'installazione delle parabole del MUUS, e quindi ci schieriamo in modo compatto e unanime contro ogni possibile intervento militare straniero in Siria e a favore della pace, scrivono i comitati nel documento. La nostra opposizione ha una duplice valenza e quella di un popolo in lotta che non vuole che un altro popolo del Mediterraneo soffre e muoia sotto le bombe, ma è anche quella di chi sa bene, per aver vissuto decenni nell'isola della quale gli Stati Uniti d'America hanno fatto la loro porta aerea al centro del Mediterraneo, che quando la macchina militare americana, scrive il Comitato Numus, colpisce un qualsiasi paese in una qualsiasi parte del mondo, aumenta esponenzialmente la militarizzazione dei nostri territori. I temi sociali, la crisi, la questione delle unioni civili e la questione del verde pubblico e del MUUS. Sono questi i temi della quinta edizione dei Ragusani nel Fondo, che si terrà domenica sera a partire dalle 19.30 alla Rotonda Maria Occhipinti, alla fine di Via Roma, Ragusa. Top Secret, i nomi dei quattro premiati. Nella presentazione, Pippo Gurriere, uno dei promotori, ha sottolineato che è possibile partire dagli ultimi. Dalle situazioni dei più deboli si può ricostruire un tessuto sociale adeguando il proprio passo a chi è più in difficoltà, piuttosto che correre lasciato indietro gli altri. Gli ultimi non sono per forza le mosinieri. Se passasse questo concetto, rischieremmo di distruggere un patrimonio umano enorme. È prevista la partecipazione nel corso della serata degli artisti, i fratelli della strada, la scuola e compagni di flamenco solduende. C'è un radiodramma sperimentale e infine la serata sarà chiusa da un concerto e la band iblea Caruana Mundi. Inoltre verrà proiettato un film dedicato alle manifestazioni non muos, realizzato da Giuseppe Firrinceli e nel corso della serata si terrà una cena solidale autofinanziata dall'organizzazione. Domani, giovedì 5 settembre alle ore 14.30, 18, 21 e 24 e venerdì 6 alle 8 del mattino, andrà in onda su Trenova la puntata numero 690 di Come eravamo, contenente una sintesi della trasmissione rotonova, realizzata il 2 marzo del 1988 con Angelo Gurrieri, bracciante agricolo del 1924 e dirigente del Partito Comunista Ebleo, che racconta un pezzo di storia del dopoguerra di Ragusa, a partire dalle elezioni per la Repubblica, la nascita ragusa del Partito Comunista e della Camera del Lavoro, le lotte per l'imponibile di mano l'opera, per la riforma agraria, la repressione della Polizia di Scelba, l'elezione a deputato regionale nel 1947 di Ignazio Nicastro, lo sciopero dei minatori ragusani che dormirono nelle grotti per venti notti e su sollecitazioni di un telespettatore i moti del Non si parte del gennaio 1945. Il compianto Angelo Gurrieri, che per dieci anni è stato consigliere comunale di Ragusa, fa anche un toccante appello ai giovani per difendere libertà e benessere, così faticosamente conquistati dalle generazioni passate e da quelle lotte da lui raccontate nella trasmissione di Trenova del 1988. Abbiamo lottato per avere scuola, abbiamo lottato per avere queste cose, sicuramente, parliamo così a ragusani, non vi facetelo fare, ha definito e ha lottato ancora più tiravanti per un nuovo conquistante, sia morale, sia civile, e sia anche intellettuale. Grazie a tutti.